Bella sei bella, per me sei bella come il sole, tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole, bella ciccia. Il giorno dopo verso Los Angeles, verso i campionati di Parasurf, insieme a tutta la squadra nazionale italiana di Parasurf che sarà presente in sala insieme a noi. E sono i mostri del surf. Oh yes! Adesso guardate un po' di foto dal futuro di questa bellissima serata. Halloween, my life boy, DJ set. Il 31 di ottobre, al Don Pepe di Ostia. Arrivano i campioni della squadra Parasurf. La squadra nazionale che va a fare le sue gare. Al campionato mondiale di Los Angeles. Si sarà Adriano Poro a fare musica dal vivo. Ci sarà il DJ set del Bon Vecchio, un clandestivo. Blind e merendo, pure sarà dei nostri. Per questo evento pieno zeppo di mostri. Halloween, Halloween.